Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Fano. Questo significa che a breve sarà annunciato il ripescaggio della Pistoiese in serie C. Al momento c'è solo una sentenza, anche se indicativa e dalle conseguenze scontate. Tuttavia va ricordato che finché non sarà ratificato ufficialmente dagli organi federali il ripescaggio della Pistoiese non potranno esserci ripescaggi in serie D. Attende anche il vado, anche se in corso sa già di essere nella massima categoria dilettantistica. Va ricordato che i ripescaggi in questa fase, e solo in questo caso, possono essere disposti in qualsiasi momento anche di notte, visto che vengono stabiliti dai presidenti di Lega senza dover transitare dal Consiglio federale. Dunque è utile essere prudenti ancora una volta nei commenti e soprattutto nelle previsioni per una questione di correttezza. Per questi motivi il Brindisi resta in attesa di buone notizie in questa estate torrida non solo dal punto di vista climatico.